Nella giornata del 20 maggio 2011, a seguito di un incontro avvenuto con il presidente dell'Atletico Santo Spirito, nella fattispecie il signor Francesco Albergo, perviene presso gli studi del sito web www.radioprimacircoscrizione.info la notizia che l'Atletico Santo Spirito ha ottenuto la vittoria a tavolino per 3-0 nell'incontro di calcio di andata dei play-off contro il Liberty Palo, disputatosi la settimana scorsa. Domenica 22 maggio 2011 a Palese, il Liberty Palo probabilmente non si presenterà al campo sportivo di Palese per l'incontro di calcio di ritorno dei play-off, e quindi in questo modo avverrà solo la presentazione dell'Atletico Santo Spirito per regolamento, ma non essendoci la squadra avversaria, l'Atletico Santo Spirito avrà automaticamente la vittoria. Il prossimo incontro di calcio si disputerà fuori casa contro la squadra del Gioia del Colle. Concludiamo questa notizia dando tanti auguri all'Atletico Santo Spirito per la promozione in seconda categoria. Dagli studi del sito web www.radioprimacircoscrizione.info è tutto. Grazie per averci ascoltato e a risentirci alla prossima notizia.